... Manuela Pirola, delegata sindacale Nursind. Oggi siete qui a manifestare davanti all'ospedale Mandic, a chiedere un sostegno per la sanità pubblica e che cosa volete rappresentare alla cittadinanza. Tutte le nostre motivazioni sono state indicate nel volantino che abbiamo distribuito anche alla popolazione, oltre che ai colleghi. Abbiamo un sacco di problemi, principale la carenza di organico, tanto è vero che non ci hanno ancora garantito le ferie estive. Usciamo da tantissime fasi di pandemia e via dicendo, siamo tutti stanchi, per cui vorremmo avere delle risposte concrete alla nostra azienda. Abbiamo una fuga di personale verso altre strutture, verso altri enti, non siamo più un'azienda che le persone aspirano a venire a lavorare, quindi dobbiamo fare qualcosa. Quindi siamo qua per dimostrare questo, oltre di mille ragioni che sappiamo scritte su un volantino.